Ci troviamo al mercato di Corso Cincinnato, controviale dietro i banconi del mercato, un posto dove le auto viaggiano ad alta velocità ed è un problema. Cosa chiedete come operatori del mercato? Chiediamo soltanto dei rialzini perché quando il mercato è a pieno regime ci sono delle auto che sfrecciano ad una velocità impressionante e si ha il timore di avere qualche brutto incidente. Perciò dei rialzini giusto da rallentare. Ma qualcuno si è già fatto male? Ci sono già stati piccoli incidenti o ancora no? Che ne sappia per adesso no, però il rischio c'è ed è anche alto. Perfetto, quindi la vostra richiesta è quella di intervenire immediatamente sulla viabilità in questo pezzo di Corso Cincinnato? In questo pezzo, anche nell'altro lato della strada, in modo che rallentino un attimino almeno nelle ore del mercato. Grazie. Grazie.